Al via i lavori di potenziamento della rete fognaria e della fibra ottica in Darsena. Il sindaco di Ravenna ha simbolicamente gettato il ghiaino sulla prima parte della nuova condotta fognaria. L'importante intervento comporterà un costo complessivo di oltre 8 milioni di euro, di cui 7 finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il cosiddetto Bando Periferie e oltre un milione da Romagna Acque. È un cantiere fondamentale per la nostra città, era uno degli impegni principali che avevamo preso. È anche un intervento che abbiamo candidato proprio nei primi giorni di insediamento al piano periferie. È stato finanziato, è stato un percorso molto lungo, nel senso che sono stati coinvolti tre privati importanti, il gruppo CMC, la famiglia Gamberini, il comandatore Bagnari, che sono i proprietari di queste aree, che ci hanno consentito di intervenire all'interno delle loro aree. La progettazione è stata fatta dal gruppo ERA, poi sono stati assegnati i lavori e questo investimento, che non si vede con gli occhi perché le impianti fognari sono sotto i nostri piedi, però è fondamentale per poter rigenerare completamente la darsena, perché gli interventi che si stanno facendo, il nuovo sottopasso ferroviario, la passerella, il rifacimento del ponte di Teodorico, gli investimenti privati, quelli che hanno già fatto, quelli che si stanno facendo, sono vani. Se l'ambiente non viene risanato da un punto di vista dell'impianto fognario. E questo intervento, molto molto impattante, darà una nuova veste anche ambientale a quest'area, consegnandola al suo futuro, non più di area produttiva portuale, ma di area di socialità, di sport, di cultura.